L'invasione dei cinghiali è diventata un'emergenza nazionale che richiede provvedimenti straordinari. Per questo la Giunta delle Marche ha approvato il piano regionale di interventi urgenti con nuove misure finalizzate a contenere gli impatti negativi causati dall'eccessiva presenza di ungulati. Tra gli obiettivi l'incremento annuo del 50% degli abbattimenti potranno intervenire anche i proprietari e i conduttori di fondi in possesso di una licenza di caccia. Dunque Assessore c'è un pericolo reale? È un grande problema dovuto principalmente al rischio di contagio da parte degli ungulati della peste suina africana che si sta trasmettendo anche agli allevamenti di suini. Quindi è un'emergenza dal punto di vista zootecnico ma è anche un problema di sicurezza sulle strade, è un problema di incidenti che si ripetono continuamente ma anche non per ultimo è un danno reale all'agricoltura. Oggi i gruppi di cinghiali che entrano in un campo distruggono il lavoro di un anno e quindi la regione è costretta a pagare con i soldi dei cittadini questi danni. Di fronte a questo l'approccio non è quello di uccidiamoli tutti né di far divertire i cacciatori. Qui si tratta di affrontare la cosa dal punto di vista tecnico con l'approccio scientifico che deve avere e quindi abbiamo fatto un protocollo d'intesa per la cattura con le gabbie lo scorso anno anche con lo sostegno della polizia provinciale, dei carabinieri forestali, del lanci e quindi dei sindaci che hanno uno strumento di cattura nelle aree urbane e periurbane. Poi invece nelle aree agricole e agrosilvopastorali abbiamo dato la possibilità con questo piano che è uno dei primi approvati in Italia peraltro col parere favorito dell'ISPRA permette intanto un abbattimento di grandi numeri quindi parliamo di 23.000 capi per il 2023 abbiamo permesso la braccata che è una caccia richiesta ed è quella che più di tutto riesce a dare un impatto sui numeri per il controllo all'interno delle aree delle foreste demaniali e regionali e poi l'utilizzo dei cacciaselettori di qualunque abilitazione all'interno delle aree che possono essere autorizzate quindi oltre a questo si aggiunge il fascicolo agricolo e l'autodifesa che possono fare gli agricoltori tutte le ore del giorno proprio per difesa dei fondi e quindi su questo è necessario per poter rendere effettive queste mie parole e questa delibera dell'aggiunta regionale è necessaria la collaborazione delle ATC, è necessaria la collaborazione dei cacciatori perché poi in ultima analisi sono loro che devono essere protagonisti della polizia provinciale e di tutto il sistema e la filiera istituzionale perché questo regolamento si renderà efficace e darà risultati se tutti quanti faranno la loro parte in questa operazione Grazie 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 a tutti